Buongiorno ragazzi, eccoci per la nostra passeggiata del lunedì. Oggi parliamo del famosissimo esperimento della prigione di Stanford 1971. Allora l'esperimento di cui stiamo per parlare è uno degli esperimenti più famosi e allo stesso tempo mal riusciti perché doveva durare due settimane e al sesto giorno è stato interrotto e adesso capirai perché. Che tu sia un mio collega o meno molto probabilmente conosci l'esperimento e i suoi esiti perché sono stati ripresi da due o tre film del quale uno di recente uscita. Molto brevemente immagina di essere nel 1970 aprire un giornale c'è scritto che un professore del dipartimento di psicologia sta conducendo degli studi sui carcerati e che ti daranno 15 dollari al giorno per partecipare a questa simulazione di un carcere costruito nei laboratori, nei sotterranei dei laboratori di psicologia di Stanford. 15 dollari al giorno nel 1970 erano un bel po' di soldi. Oltre 70 persone rispondono all'annuncio ma vengono tutte quante analizzate con diversi questionari per tirare fuori quelli maggiormente equilibrati e ne restano 24, 24 partecipanti. Questi 24 partecipanti vengono suddivisi in modo completamente casuali in guardie e prigionieri. Quindi iniziamo con nove guardie e nove prigionieri in questo esperimento. Dopo averti spiegato brevemente l'esperimento ti racconterò la teoria che ci sta al fondo ma questa teoria prevede che si perda l'individualità, la de-individuazione di Gustave Le Bon. Per ottenere questo effetto di de-individuazione Zimbardo, il capo sperimentatore, decide di mettere alcune accortezze, ad esempio l'arrivo dei prigionieri. In pratica chi viene selezionato come prigioniero viene trattato proprio come tale, gli viene messa una divisa senza mutande, con un numero, da quel momento in poi viene chiamato con un numero e viene disinfettato completamente alla sua entrata. I prigionieri dovranno tenere tutte delle condotte di buone condotte proprio come se fossero realmente ospitate all'interno di un carcere, mentre le guardie potevano fare un po' quello che volevano. Invece ai poliziotti era stata data una divisa appunto da poliziotto, un manganello, gli venivano messi degli occhiali a specchio per aumentare questo effetto di de-individuazione. Lo scopo degli sperimentatori era ottenere questa condizione di de-individuazione trovata da Le Bon nel tempo più breve possibile attraverso alcuni questi artifici psicologici. Già durante il secondo giorno scoppia la prima rivolta, i prigionieri scappano, si strappano le divise, si barricano all'interno delle celle e i prigionieri, o meglio le guardie, iniziano un po' a sclerare. Ma continuiamo dopo pranzo perché sono arrivato. A dopo. Eccomi ragazzi di ritorno dal pranzo, continuiamo con lo studio della Stanford, della prigione di Stanford di Philip Zimbardo, ti ricordo 1971, estate 1971, sotterranei di... non mi chiedere perché, ma tutti i laboratori di psicologia sono sempre nei sotterranei delle varie facoltà, anche qui a Padova c'è un labirinto gigantesco di laboratori. Quindi in questi sotterranei ricostruiscono una vera e propria prigione, selezionano a caso tra prigionieri e guardie, le guardie si vestono con questi occhialoni, loro, gli viene tolto il nome, vengono umiliati anche di notte, i prigionieri vengono umiliati di notte con delle conte, vengono... viene istituito un piccolo stanzino dove fare una specie di... posto di isolamento, vengono puniti con delle flessioni, con delle cose... insomma in breve tempo le guardie diventano delle guardie vere, i prigionieri si trasformano in prigionieri veri, con tutti i comportamenti antisociali tipici del caso. In poco tempo, nel giro di meno di due giorni, Zimbardo raggiunge il suo risultato, la deindividuazione, la teoria di Gustave Le Bon, di cui abbiamo parlato nella passeggiata sul conformismo sociale. Gustave Le Bon, che è stato un filosofo, un pensatore, un sociologo del 1800, aveva scritto un famosissimo libro che si chiama La psicologia delle masse. In questo testo Le Bon parla di deindividuazione, di come gruppi coesi, quando si trasformano in folle, perdono la responsabilità, la coscienza e si comportano in modo deviante. Torniamo ai nostri prigionieri che nel giro di poco tempo, a furia di vessazioni, a furia di varie punizioni di diverso genere, anche molto pesanti come pulire il water con le mani, andare a stare nella prigione nudi, eccetera, si trasformano piano piano in tante persone obbedienti, perdono la loro volontà e molti di loro iniziano ad accusare degli disturbi emotivi molto gravi. Zimbardo in seguito racconterà che, quando ha avuto modo di parlare con un suo collega, si è reso conto che anche lui ormai era entrato nell'ottica del... nell'ottica del del gioco di ruolo, no? Che questo è un po' quello che succede. Praticamente uno dei prigionieri era stato liberato perché stava male ed era iniziata a girare la voce che in una notte questo prigioniero insieme a delle altre persone si sarebbe organizzato per fare un'irruzione e liberare gli altri prigionieri. A quel punto, quando Zimbardo racconta di essere stato più preso di sventare questo tentativo di fuga e di irruzione, si rende conto di essere stato completamente preso e trascinato all'interno del gioco che lui stesso aveva creato. Il sesto giorno, a causa di tanti problemi emotivi di alcuni prigionieri e dell'accanimento sempre più sadico e cattivo da parte delle guardie, Zimbardo interrompe l'esperimento. Nonostante l'esperimento venga interrotto, in realtà Zimbardo riesce a provare tutto quello che voleva provare e anche di più riesce a provare non solo l'effetto di deindividuazione ma anche l'effetto del ruolo. E per ruolo intendo che quando nel momento in cui tu hai una divisa e fai parte di un gruppo, nel momento in cui hai quel ruolo specifico, inizia ad abbracciare, ad apprezzare maggiormente i valori del ruolo che hai che è te stesso, la tua individualità. Ovviamente queste ricerche fanno abbraccetto con tutte quelle sul conformismo sociale che abbiamo visto, in particolare con quella dell'autorità di Milgram per spiegare come siano potute accadere tali tragedie nella nostra storia umana. Se vuoi vedere una bella intervista del professor Zimbardo l'ha intervistato l'amico, il direttore di psicologia contemporanea Luca Mazzucchelli. E sempre grazie al mitico Luca Mazzucchelli ho scritto per un anno sulla stessa rivista del professor Zimbardo, il che è stato un onore mastodontico. Da questa storia c'è una piccola storia proprio di Zimbardo con uno di questi ragazzi prigionieri ormai distrutto, che piange perché gli altri prigionieri pensano che lui abbia parlato male di loro, è lì che piange in uno stanzino e Zimbardo non sa come aiutarlo. Ad un tratto raccontano che Zimbardo sia andato da questo ragazzo e gli abbia detto basta io sono Filippo Zimbardo, non sono il direttore di un carcere, sono uno psicologo e tu sei uno studente di psicologia e questo è solo un esperimento. E secondo i racconti questo ragazzo smise improvvisamente di piangere, insomma si svegliò da quella che era questa trans ipnotica creata da una realtà sociale. E ora una piccola riflessione sul fatto che in realtà noi siamo costantemente immersi in realtà sociali costruite, costruite a tavolino non da noi ma da chi ci ha preceduto, lo Stato, il Comune, il Governo. Non solo tutta la psicologia sociale ci ha ampiamente dimostrato che le realtà sociali costruite che abbiamo attorno ci influenzano anche molto pesantemente, ma anche gli ultimi libri di Harari lo dicono. Secondo Noah Yuva Harari, che è uno degli autori che ho preferito di più nell'anno scorso sui due suoi libri Sapiens e Homo Deus, noi ci siamo, l'unione dei popoli è dovuta a questa capacità. Cioè i nostri antenati hanno iniziato a radunarsi in gruppi sempre più grandi proprio sotto l'egidia di ideologie e di costruzioni sociali come la religione, lo Stato, la città eccetera. Per questo ti invito a non sottovalutare il potere della società che ti circonda e allo stesso tempo ti invito ad approfondire questo argomento magari guardandoti qualche film senza prenderti male. Perché? Perché questo effetto di costruzione sociale puoi viverlo in qualsiasi momento anche solo quando giochi a risico con gli amici e il tuo amico non ti parla tutta la sera perché l'hai distrutto. Una vera soluzione a questo problema non c'è se non portare la nostra consapevolezza su questi problemi e ogni tanto renderci conto che molte delle cose che diamo per scontate non sono affatto scontate.